Allora, benvenuti ragazzi. Oggi, nuovo su YouTube, sono se Sabine e faremo, come dire, un gioco da tavolo, cioè, vale a dire, un gioco di carte di uno. A me, il gioco di carte di uno mi piaceva assai, perché prima ce le riuscirevo anche io, le carte di uno. E adesso non lo so se sono perso, o l'avrò buttato da qualche parte, vabbè. Mi piaceva giocare a uno. Adesso ho la possibilità di giocare su internet e gioco adesso online. Vai, siamo pronti. Inizio a fare le carte. Questo qua. Bene. Non ci siamo a stoppare. Stai fermo. Non ti permetto di farti giocare. Eh, mo' mi attaccano, ma non ho mai che cosa. Perché mi butti quello che non ho? Ma va, porca vacca, però, eh. Già, già l'ha buttato il quattro carte. Cambia colore. Iniziamo a pigiare, gine di carte in mano a me. Oh, una femmina che va a prendere le carte a quello. Che cosa ho scelto? No, blu. No, rosso. Ah, già l'ha scelto. Sì, prende due carte. No, prendo anche tu. Guarda, è bello, giocare così. Ehi. Ai. Dio mio, ragà. No, volerò, sono la maledizione. Cambia colore. No, ma non vi occorre, non lo cambia io. Eh, questo fa sempre uno. Sì, meno male che non ce l'hai. Ehi. No, perché me sei giallo, porca vacca. Ah, non ne ho, non ne ho, non ne ho. Sì, grandissimo. No, andate a troverlo, se da... Sì, io vengo. Dai, ragazzi, dai. Eh no, non cambia di colore. Porca vacca, morta. Sì, sì, grazie, mi ho fatto vincere. Sì, ragà. Va. I sintomi influenzali possono farsi sentire in modo diverso di giorno e di notte. ActiGrip giorno e notte. Ti stoppo. E ma stoppato parla a me. Ah, no, 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 no. Perché stoppato questa, questa? Bu. Bu. L'aiuto, eh. Gli aiuti vanno forti qua, uh. Niente blu, niente blu. Però io una cosa che so, nei classi di giochi di carte di Uni, non ce n'è. Qua è strano che sta pur in view, va. Tu hai trovato una versione, non lo so, se era la versione nuova. Va bene, non ce n'è, non ce n'è fotte, basta noi ce ne giochiamo, giochiamo e basta. Come i veri giocatori di Uni. Ragazzi, portatevi che non vince questa donna qua, eh. Vedete voi la posta da Grinch. E dai! Oh, questo è l'equipide pratissima. E poi non mi mettiamo un colore qua a me, dai, giochiamo solo voi. Ma non mi fanno anche giochere più, mo. E sono già due combi a G. Quello va sempre come non ci vince mai. Eh, che caldo, devi vincere mai forte, eh. I sintomi influenzali possono farsi sentire in modo diverso di giorno e di notte. Actigrip giorno e notte. Ragazzi, non vengo di nuovo, non chiudo il video. E dai, con questo abbiamo vincito, eh. Iniziamo con questo. Yula, vai. Dai, cambia di nuovo, cambia di nuovo. Subito. Sì, buonissima. Sì, si è presbordato le carte, guarda. Sì. Prendi due carte anche tu, vai. Quattro carte sul tavolo abbiamo messo. Ma va bene, spere, 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 ma non benissimo. Ma va bene, spere, 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 ma non benissimo. Dice che parte per un viaggio mistico, poi si fa... La mettete grosso, mettete grosso. Ma va, ma no, va, fa un culo, porca vacca. Quello cinque, sì, va bene, va bene. Non capite colore, eh. Ho detto uno. Ma non è giusto, dai, l'avevo detto uno. Ma non è giusto, dai, l'avevo detto uno. Eh no, mi sono ascoltato. Quattro. Grazie a tutti. 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 Sono ritornato. Ah no, porca vacca, e dai? Ti butterei con una sua benda addosso se non fai vincere. Non fai vincere. Che è giallo? No, che cosa ho messo? Ah, ti rossi. Non fai vincere. 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 sempre. E si dà. E' contento di 72 punti. E' lì. Loro sono andati. I sintomi influenzali possono farsi sentire in modo diverso di giorno e di notte. Actigrip. Giorno e notte. Comunque raga questa partita è stata bella perché anche se abbiamo messo tanti aiuti sul tavolo. Una partita pazzesca. Comunque raga mettete like sotto nei commenti e nel video e iscrivetevi al mio canale se siete ancora iscritti e ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.